Ciao, sono Paolo Balci e vi presento questo Fon Vendome letto basso per quattro persone con due matrimoniali. Cliccate sulla vostra destra e si aprirà la scheda del nostro sito dove ci saranno tutte le caratteristiche di questo camp, gli optional e il prezzo di listino per confrontarci con i nostri concorrenti, ma soprattutto il prezzo chiave in mano, che è quello più importante per poter pensare ad acquistarlo. Poi iscrivetevi al canale YouTube e cliccate la campanellina per essere sempre aggiornati sui nostri video. Andiamo al suo interno. Allora, cos'è questa stecchetta? Questa stecchetta serve per agganciare il tavolo interno all'esterno, quindi usare un unico tavolo per l'interno e poter mangiare all'esterno. Poi la possibilità, il camper è omologato quattro persone e ora vi faccio vedere la parte posteriore, i letti, ma si può anche dormire in questa posizione qui, abbassando il letto, appoggiandolo in quella stecca bassa e quindi diventa un singolo con la parte sinistra del camper più larga, quindi dove ci stanno le spalle e qui davanti un po' più stretta. Andiamo al suo interno. Questo, fate com'è comodo, è ben rifinito, delle belle porcione con una bella tappezzeria, luminoso perché c'è una bella finestra, un grande oblò e la finestra, l' oblò chiuso qui anteriormente. Poi il tavolo, quindi uno, due, con la possibilità di avere la prolunga e quindi avere il piano d'appoggio anche per la quarta persona. Qua il pensile. Il piano cucina. Qui c'è la zanzariera. Qua i due fuochi. Guardate, l'unico piano, quindi si pulisce anche bene, e la vasca molto ben pronunciata, con un pianetto d'appoggio qua. Sotto il piano cucina, questo contenitore, quest'altro bel cassetto e quest'altro cassetto. Qua un piccolo pensile. In quest'altra parte, frigorifero, grande, con congelatore. Qua un bel piano, un bel contenitore. E qua un altro piccolo contenitore. Cosa c'ha di particolare questo campe? Che ha due matrimoniali interno col tetto basso. Quindi anche d'inverno potete starci comodi e riscaldati, con una temperatura giusta. Questi sono due matrimoniali, però può essere anche usato matrimoniale sotto, levando una rete per tre persone, usando questa rete qua con il suo materasso, per cui permette più facilmente, come vedete, questo lo lasciamo a casa nel caso delle tre persone, e quindi è molto più comodo. E poi, anche se siete in quarto, potrebbe essere usato matrimoniale singolo in fondo, e l'altro singolo davanti nella dinette. Come vedete, le finiture del Pond Vendome ha questa doppia scocca che trattiene e contiene l'isolamento interno, la miera, isolamento e scocca in vetroresina, sia sulla parte sinistra che sulla parte destra. Sulla parte sinistra c'è anche un bel pensile. finestre laterale sinistra e una bella luminosità nella parte posteriore, oltre all'oblò. Qua l'armadio e qui un piccolissimo contenitore. il bagno ha in questa posizione la doccia, guardate il movimento, l'oblò, quindi tutti i fumi vanno su, poi qua un piccolo contenitore, qua il lavello, eccomi qua. Oltre al water che gira, e qua, qui se siete un po' più grossi è un po' stretto, però io sono un po' cicciotto, un metro e ottanta, quindi come vedete ci sto tranquillamente. Questo è il contenitore che, quella parte in fondo si può togliere, quindi immaginatevi che potete anche usarlo per trasporto cose, perché tutte queste reti, sia quelle superiori che anche quella inferiore, si può togliere. Poi qua ci sono dei piccoli contenitori che non fanno, che fanno sempre comodo. Qui sotto ci sono le misure di ingombro di questo spazio garage. Quindi se vi è piaciuto, venitela a vedere, soprattutto venite e parlate con me o con i miei collaboratori che conoscono bene l'abitabilità e come si va in giro nel camper per potervi permettere di fare un acquisto consapevole per risolvere le vostre vacanze. Quindi, come sempre, agli ottimi prezzi e servizi caravambaci. Ciao!